Musica Perché lo fai? C'è un risposto, il neuro si chiama, da l'opetista, l'assistente sociale, su dei suoi docenti, aggiornamenti, col stilo di classe, con i centauri. Perché lo fai? Perché non te ne vai? La tua vita è la scuola, l'avanzione è la scuola, perché c'è le bambini, siamo tutti, da te, tutti le vicini, del mondo esigente, tu fai crescere la mente, ma tutti ti dico, fai niente, fai niente. Musica 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 Che non è a stesse, che non è a defenze, che non è a rettetti e anche i pensetti, e poi tutti i frenti, ci ne ha finito altro, che non è a stavare la testa finale. Perché lo fai? Perché non te ne vai? La famiglia è la scuola, la passione è la scuola, perché tiene famiglia, tutti vede, gli ubi dei vicini, per un mondo esigente, tu per crescere la mente, ma tutti, ti dico, fai niente, fai niente, nessuno che dice, voi siete migliori, 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 migliori. Viene per non segnare, non segnare, non vivere, imparare, ad ascoltare, a pensare, a ragionare, non vivere, non stare male, nella vita te la devi capare, sorridere e ricominciare. Perché lo fai? Perché lo fai? La passione è la scuola, perché stiamo a ragionare, tutti vedi, gli ubi dei vicini, per un mondo esigente, tu per crescere la mente, ma tutti, ti dico, fai niente, fai niente, nessuno che dice, voi siete migliori, 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 Viva la scuola! Buona vacanze! Buona vacanze! L'Istituto Comunitivo Tomano di Paolo II. Buona primaria!